Grazie al favore delle condizioni meteorologiche, ma soprattutto all'organizzazione che ha visto coinvolti 300 volontari e 100 scout, alla selezione dei 134 espositori, alla scelta dei temi, dei relatori di numerosi convegni, incontri circa 50 distribuiti tra sabato e domenica, quattro passi verso un mondo migliore, la Fiera dell'Economia Solidale, sostenibile e organizzata dalla cooperativa sociale Pace e Sviluppo di Treviso presso il parco della sede provinciale Sant'Artemio, ha raggiunto il record di 45.000 visitatori, 12.000 in più rispetto al 2009. Insieme vogliamo cambiare questo mondo, vogliamo dare quegli indicatori importanti di eco-solidarietà, che significa risparmiare materie prime, ma soprattutto significa anche lavorare insieme in rete con le associazioni del volontariato e ringrazio le migliaia di volontari che hanno lavorato per realizzare questa festa. Il tema della sesta edizione, appena conclusa, è stato RETI libera tutti, scopriamo l'economia delle relazioni e attorno ad esso hanno lottato numerose proposte, dalle occasioni di incontro e condivisione di informazioni e di esperienze di rete nate dai cittadini per i cittadini, alle visite guidate, alle occasioni di dibattito, approfondimento e confronto che hanno posto in rete persone, aziende, associazioni, cooperative e cittadini. E quindi avremo proprio dal commercio eco-solidale, alla finanza etica, a tutta la parte legata alla mobilità sostenibile, tutta la parte sulle nuove energie, sul risparmio energetico, le comunità del territorio, il volontariato importantissimo quest'anno con tantissimi espositori.